Il mondo nuovo. Come sapete, l'abbiamo sentito anche nel GR1 delle 10, questa mattina non funziona WhatsApp e quindi vale solo per gli sms. Martedì è la finestra sulla PSI che è collegato da Milano, c'è Massimo Recalcati. Buon tornato Massimo. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora Massimo, oggi porti al mondo nuovo un tema enorme, il tema della famiglia che ci occuperà probabilmente tante altre puntate, tante altre trasmissioni. Da dove vogliamo partire? Un tema così apparentemente semplice e facile che ci riguarda tutti, ma dal punto di vista della psicanalisi cos'è la famiglia? Intanto potremmo partire da una vera e propria rivoluzione antropologica della famiglia che è accaduta negli ultimi decenni. E cioè, mentre prima la venuta di un figlio in una famiglia obbligava il figlio ad adattarsi alle leggi della famiglia, la novità è che adesso la nascita di un figlio implica il fatto che la famiglia debba adattarsi alle leggi del figlio. E queste leggi assomigliano molto ai capricci, no? Questo è un capovolgimento e una mutazione antropologica senza precedenti. Cioè, come dire, mentre prima era la voce autorevole del padre, della madre, dei genitori a dare forma alla vita del figlio, adesso è come se la famiglia ruotasse attorno, diciamo così, a questo bambino re che sembra essersi imposto alla famiglia e appaiono anche delle nuove forme di angoscia, no? Ne vorrei citare almeno due che sono angosce, diciamo, recentissime che coinvolgono profondamente i nuovi genitori che tra l'altro sono i genitori che per certi versi provengono dalla stagione del 68, in qualche modo. Erano i figli di quei genitori. Per esempio, un'angoscia assolutamente inedita è quella che riguarda l'amore dei figli. Cioè, mentre prima era il figlio che si interrogava sull'amore dei suoi genitori, mi ami abbastanza, mio padre si accorge di me, mia madre mi vuole bene, adesso c'è un capovolgimento, sono i genitori che chiedono ai figli certezza sull'amore, no? Mi vuoi bene? Mi ami? Questo è un ribaltamento antropologico senza precedenti, perché, per esempio, rende sempre più difficile da parte dei genitori occupare una posizione educativa, perché se la finalità ultima è quella di essere amati dai propri figli, è chiaro che per rendersi amabili i genitori sono disposti a quasi tutto, no? Quindi rinunciano alla funzione educativa che di per sé è quella funzione che introduce una frustrazione, una limitazione del capriccio. La seconda grande angoscia riguarda invece, come dire, la capacità performativa dei propri figli, no? Cioè si evita in tutti i modi che i figli incontrino l'esperienza del fallimento, cioè l'esperienza della caduta, l'esperienza dello smarrimento. Come dire, si coltiva la dimensione prestazionale dei figli. Basta guardare le camerette, sembrano dei nostri figli oggi, assomigliano molto a quelli degli studi della NASA, no? Oppure le agende moltiplicano impegni uno dopo l'altro. E, per esempio, se la scuola interviene, sottolineando una difficoltà del figlio, i genitori tendenzialmente o spostano il figlio in un'altra scuola o si mettono in contrapposizione con la scuola e con i docenti. Questo è un altro fenomeno nuovo, molto recente. Cioè il fatto che si è rotto un patto generazionale che un tempo, come dire, omologava la funzione degli insegnanti a quella dei genitori. Cioè insegnanti e genitori si occupavano dell'educazione dei figli. Mentre oggi, diciamo così, i genitori tendono a fare i sindacalisti dei figli, si è rotto questo patto simbolico generazionale e quindi abbiamo da una parte genitori alleati coi figli e dall'altra parte in una condizione di isolamento su cui magari potremmo dedicare anche... Bisognerà tornare, certo, sulla scuola. Dall'altra parte ci sono gli insegnanti. Per fortuna che non funziona WhatsApp, perché i WhatsApp delle famiglie dei genitori di scuola sono diventati... Questa mattina siamo fortunati. Ecco, immagino, ci sono veri e propri circoli, diciamo, ormai. Ma ecco, questa condizione di solitudine... Per non parlare di circhi, anche. Ecco, questa condizione di solitudine degli insegnanti riflette veramente la dimensione di crisi epocale in cui si trova il discorso educativo. Cioè, si fa sempre più fatica ad educare. Cioè, educare significa dare forma, no? Alla vita del figlio. Significa umanizzare la vita. Perché? Perché il comandamento sociale che circola in modo, come dire, senza limiti è che, appunto, lo posso riassumere con questa formula che in psicanalisi dal punto di vista clinico è la formula della perversione, no? Cioè, perché no? Perché io devo rinunciare a realizzare un soddisfacimento immediato? Massimo Ricalcati, cosa è successo? Perché è andata in crisi la famiglia in questo modo che tu ci hai raccontato? Cosa è successo nella società? Dipende da noi, dalla società, dalla scuola o quello che succede a scuola è una conseguenza? Beh, è un'onda lunga questa, no? È un'onda lunga che, potremmo dire, parte dal 68, di cui io ho una grande considerazione, diciamo, in generale. Perché, per esempio, il 68 ha liberato proprio l'educazione da un regime repressivo. Però è come se avesse buttato via con l'acqua sporca anche il bambino. Cioè, la critica giusta, legittima all'autoritarismo pedagogico, repressivo, educativo, ha comportato anche una critica, diciamo, alla differenza generazionale. Basta coi padri, no? Questo potrebbe essere... Oppure il re è nudo. Ecco, basta coi padri. Il re è nudo implica che la dimensione simbolica dell'autorità si è, come dire, sgretolata sotto i colpi libertari del 68 e abbiamo avuto un'onda lunga per cui il libertarismo del 68 si è via via trasformato in una sorta di libertinismo, cioè di godimento che rifiuta ogni esperienza del limite. In più, direi che c'è poi un altro grande elemento che è quella, l'affermazione, direbbe Pasolini, della società dei consumi, no? Questa affermazione ha, come dire, desacralizzato l'esperienza del mondo e ha introdotto il culto, il mito dell'oggetto di consumo come risolutore di ogni disagio esistenziale. Come direi, un problema, ecco l'oggetto che può consolarti di fronte a questo problema. Pasolini parlava proprio di un passaggio dalle società religiose che sono società verticali che hanno un punto, diciamo, apicale che è costituito, per esempio, dall'autorità simbolica del padre, no? Passaggio dalle società religiose monoteiste alla società contemporanea che è una società politeista, cioè che sparpaglia gli dèi dappertutto nella forma delle merci, nella forma dell'oggetto gadget, della forma dell'oggetto di consumo. E noi siamo in questo clima, no? In un clima in cui, appunto, la felicità passa attraverso un oggetto. E' quello che io ho definito, in modo molto sintetico, un totalitarismo degli oggetti, no? Che è il mondo in cui noi viviamo. Noi siamo ingorgati di oggetti. E allora, se siamo ingorgati di oggetti, il discorso educativo fa fatica a costituirsi, no? Perché si fonda su un principio che è quello non dell'ingorgo, ma di fare il vuoto. Non c'è formazione se non c'è esperienza del vuoto, no? Che la mia generazione conosceva benissimo, per esempio. Mentre adesso si tende a turare il vuoto in ogni modo. Ma è una crisi anche della responsabilità. È una crisi della responsabilità perché, diciamo, ogni gesto educativo implica un'assunzione di responsabilità. Questo è un tempo, il nostro, in cui per la prima volta la libertà è diventata, ed è un fatto molto positivo, è diventata di massa, no? Come dire, non è più la libertà un privilegio di alcuni ceti sociali, ma, diciamo così, è diventata, appunto, collettiva. Noi siamo in un tempo in cui la libertà in ogni democrazia, no? Costituisce la spina dorsale della vita collettiva. Pensa solo al fatto che un tempo, per esempio, in una famiglia italiana, normale, pregare era un fatto, una consuetudine, no? Come la pioggia, come la neve, come il sole. Diciamo, i genitori non si interrogavano tanto sul senso della trasmissione della preghiera come di un rituale, diciamo così, condiviso. Beh, oggi, giustamente, questo rituale, il rituale della preghiera, è interrogato. Per cui ci sono famiglie che decidono di non insegnare i figli a pregare e altre famiglie che decidono di insegnare i figli a pregare. Come dire, la responsabilità educativa oggi emerge come inaggirabile. Ma, al tempo stesso, come ho detto prima, la tendenza dei genitori è spesso, delle nuove famiglie, di delegare altri soggetti a compiere queste decisioni e, tra tutti, direi, il soggetto fondamentale è la scuola che deve vicariare, supplire, le carenze educative e la difficoltà delle famiglie, per esempio, di far esistere, come diceva un mio giovane paziente tossicomane, mi diceva, ma, sa, dottore, io non ho mai avuto da parte dei miei genitori un no che fosse un vero no. Come dire, come si fa a istituire l'esperienza del limite che in psicanalisi è fondamentale per dare forma alla vita, cioè l'esperienza dell'impossibile, cioè io non posso avere tutto, sapere tutto, godere di tutto, essere tutto, come facciamo a introdurre questa esperienza che poi è l'esperienza della legge quando fuori dalla famiglia appunto circola il detto perché no, perché dovresti rinunciare, perché dovresti limitare come dire la tua spinta a godere, perché dovresti limitare la tua libertà tenendo conto della libertà dell'altro, perché no, ecco questo è il comandamento sociale con cui noi ci troviamo a confrontarci. E come se ne esce nel senso anche per i genitori a questo punto diventa molto difficile perché si tratta di mediare tra l'ascolto e i dire no? Cioè come educa un genitore senza sopraffare il figlio? Il nostro tempo secondo me propone come risoluzione quella che io giudico abbastanza abbastanza un'impostura che però oggi è egemone nel dibattito pedagogico psicologico sull'educazione dei figli che è quello delle regole se tu fai caso tutti parlano dell'esigenza di rispettare le regole tutti concepiscono in fondo l'educazione come una regolazione della vita del figlio come una sottomissione della vita del figlio alle regole e si pensa cioè che l'educazione sia appunto una regolazione che inizia dall'origine della vita regolare l'appetito regolare il sonno e poi via via regolare la socializzazione regolare l'apprendimento ci sono anche una miriade di manuali psicopedagogici soprattutto nordamericani che spiegano come si fa l'importanza dei no ad alternare il rosso e il verde cioè il no al sì per regolare la vita del figlio questa perché è un'impostura perché intanto i figli sono tutti differenti e quindi la regola invece risponde a un criterio universale diciamo e il problema dell'educazione è sempre quello di rapportare l'universale al singolare tutti i figli sono differenti l'uno dall'altro lo diceva molto bene un grande filosofo Levinas quando diceva ogni figlio è figlio unico cioè è un figlio che ha le sue attitudini le sue caratteristiche il suo proprio nome che lo rende diverso dagli altri figli quindi qui già abbiamo un primo problema se la regola è universale è anche necessaria per certi versi perché se saltassero tutti questa mattina è saltato Whatsapp ma se saltassero tutti i semafori in una città poiché il semaforo regola il traffico noi saremmo immersi nel caos quindi il piano delle regole per certi versi è necessario ma la regola attenzione è sempre e soltanto un impedimento esterno il nostro tempo confonde la regola col senso della legge cioè riduce il senso della legge al significato della regola mentre noi pensiamo che il senso della legge sia un'altra cosa rispetto alle regole e che ci sia un vero rispetto delle regole se viene acquisito il senso della legge e allora qual è il senso della legge? il senso della legge per dirlo proprio in pochissime parole è il fatto che nella psicanalisi diciamo viene trasmesso soprattutto dalla figura paterna ma su queste figure paterna materna però diciamo fondamentalmente la legge è trasmessa dal padre o da chi ne fa le veci ed è appunto iscrivere nel cuore quindi nel cuore del figlio quindi non sulle tavole di pietra diciamo come si non so se hai presente un reality qualche tempo fa in televisione della tata la tata interveniva in famiglie che erano dei casini e li regolava perfettamente ponendo sulle pareti delle regole che assomigliavano proprio ai comandamenti diciamo biblici no? e la famiglia si ordinava nella misura in cui rispettava le regole ecco la mia tesi invece è che le regole da sole non bastano sono necessarie ma non sono sufficienti perché sono solo impedimenti esterni ciò che conta è iscrivere nel cuore del figlio il senso della legge cioè il senso dell'impossibile che non tutto è possibile allora mentre il nostro tempo che è il politeismo del nostro tempo sponsorizza l'idea perversa che tutto sia possibile il senso della legge custodisce l'esperienza dell'impossibile cioè l'esperienza del limite e trasmette questa esperienza non come diciamo con una finalità repressiva ingabbiare la vita del figlio nei limiti ma facendo vedere che solo se tu hai senso dell'impossibile diventa possibile l'esperienza del desiderio questo lo sanno i bambini quando i bambini per esempio giocano se tu hai notato passano gran tempo del gioco a definire le regole del gioco come se il gioco in fondo fosse impensabile senza delle leggi che lo orientano è la stessa cosa si può dire dell'educazione il gioco del biliardo per esempio sarebbe impossibile senza le sponde una partita di calcio non può svolgersi se noi non disegniamo diciamo così il perimetro del campo e allo stesso modo si potrebbe dire della vita del figlio cioè l'esperienza del gioco del desiderio diventa impossibile se non viene trasmesso il senso della legge Massimo Recalcati nonostante Whatsapp Down sono arrivati per te molti messaggi prima però voglio farti sentire un clip di un film di un film di Verdun che in modo molto più ovviamente grossolano descrive le difficoltà grossolano rispetto alle tue parole naturalmente ma molto in realtà azzeccato per quello che è ovvero un film le difficoltà dei genitori ascoltiamo questa clip cosa ci voleva a prendere due piattini due tazzine e a metterle nella lavastoviglia era complicato è faticoso era pesante mamma mia quanto pesano quei tazzine vi ricordo che io ho mandato un sms alle 8 e 46 nel quale preannunciavo che sei arrivato in ritardo che cosa ci voleva ad andare qua sul geratore prendere una confezione di cordon ble aprire il forno metterlo qua dentro farlo partire e aspettare che se scongeli era tanto complicato era non interrompere scusate fatemi parlare perché se due ragazzi di 20 anni e oltre non sono in grado di scongelare un cibo e preparare una cera decente o sono degli inetti o sono molto molto viziati Carlo Verdun è sotto una buona stela del 2014 Massimo Recalcati descrive un po' le difficoltà di cui hai parlato tu dell'educare beh intanto faccio notare una cosa in questa clip cioè che i figli hanno 20 anni sì non sono ragazzini non sono adolescenti in senso stretto no? questo è un altro punto molto importante da sottolineare cioè come dire è come se nel nostro tempo il tempo evolutivo della pubertà di cui l'adolescenza era storicamente la sua espressione no? per cui noi abbiamo pubertà e adolescenza come l'espressione psichica diciamo delle grandi trasformazioni puberali che introducono il corpo del figlio nella esperienza appunto della pulsione della sessualità eccetera ora tutto questo avveniva in un'età evolutiva circoscritta che è appunto quella delle trasformazioni puberali quindi c'era un rapporto diretto tra pubertà e adolescenza uno dei problemi della società contemporanea è il fatto che questo rapporto si è disunito per cui noi abbiamo la pubertà che collochiamo appunto nell'età tradizionalmente adolescenziale ma poi abbiamo una cronicizzazione dell'adolescenza che oltrepassa di gran lunga l'età puberale e che arriva fino a 30 anni questi ne hanno 20 però si comportano come dei ragazzini faccio notare che questo delirio anagrafico se posso dire così se noi lo mettiamo a confronto con un'opera a me molto cara cito la prima che mi viene in mente il sergente nella neve di Mario Rigoni Stern che racconta le vicissitudini del rientro dalle steppe russe dei nostri alpini e della tragedia di questa ritirata il protagonista appunto il sergente nella neve che guida battaglioni che sfida la vita e la morte ogni giorno che ha sulle spalle delle responsabilità immense ha 22 anni la dilatazione del il delirio anagrafico capisci che siamo di fronte ad un'alterazione profonda no della di cui complice è ovviamente anche la grande crisi economica che attanaglia diciamo l'occidente massimo recalcati continuiamo a parlare dopo la pubblicità adesso c'è la pubblicità il mondo nuovo con massimo recalcati stiamo parlando della famiglia della crisi della famiglia di come è cambiata in questi anni delle difficoltà ad educare massimo recalcati prima della pubblicità stavi accennando al ruolo dell'impatto della crisi economica nella crisi della famiglia beh non c'è dubbio che appunto quello che descrivevo come una sorta di cronicizzazione dell'adolescenza no che non è più l'espressione delle trasformazioni puberali ma diventa appunto uno stato eh d'essere quasi e beh è rafforzata dalla condizione di assenza di prospettive di assenza di futuro di mancanza di lavoro per esempio e questo accentua diciamo così e distorce per certi versi la natura del legame familiare perché questo è un punto molto importante su cui vorrei soffermarmi cioè il legame familiare ha una caratteristica che lo distingue da tutte le altre forme di legame penso il legame d'amore penso il legame amicale per esempio perché perché quando si realizza pienamente il legame familiare quando si scioglie cioè lo scioglimento del legame familiare è la realizzazione di questo legame come dire abbiamo curato la vita del figlio nel tempo della sua inermità l'infanzia abbiamo educato la vita del figlio nel tempo della sua evoluzione della sua adolescenza e lo abbiamo formato all'esperienza della libertà dunque il punto di massima realizzazione del legame familiare è quando questo legame si scioglie e il figlio diciamo così si separa dalla famiglia non dobbiamo mai dimenticarci che la separazione è la meta fondamentale del legame familiare quello che si vede già molto bene teneramente nell'immagine della madre che tiene le manine del figlio mentre gli insegna a camminare qui che cosa vediamo in questa scena di vita quotidiana vediamo che per un verso la vita del figlio dipende dalle mani della madre ma queste mani insegnano al bambino la sua libertà la sua autonomia ecco noi la crisi economica è uno di quei fattori che invece come dire distorce questa finalità fondamentale del legame familiare e fa sì che la famiglia diventi una sorta di nicchia protetta di rifugio di legame inossidabile cioè di un legame che non si lascia non si lascia rompere come dovrebbe invece accadere se vuoi questa è la grande come dire lezione che noi possiamo trarre da una famosa scena biblica quella di Abramo che è stata di Abramo e del sacrificio di Isacco che è stata interpretata in tanti modi ma un modo per leggere questa scena al di là della dimensione appunto sacrificale che che essa comporta per certi versi è il fatto che Abramo viene invitato da Dio ad abbandonare il proprio figlio cioè a lasciarlo andare a slegarlo ecco questa esperienza dello slegare è a fondamento del legame familiare il legame familiare si realizza quando produce slegame ecco questa è una condizione se ci pensi veramente propria del legame familiare che lo distingue da ogni altra forma di legame ci sono tante domande per te Massimo recalcati sulle regole inizio da una dalla prima che vedo che cosa significa educare a me risulta che sia portare fuori ciò che è dentro ma lo percepisco spesso come creare fotocopie questo mi sembra un tema importante i genitori che fanno proiezioni sui figli creare fotocopie sì creare fotocopie è esattamente diciamo così il fallimento del processo educativo lo diceva molto bene Jean-Paul Sartre quando dice spesso i genitori hanno dei progetti sui loro figli e questi progetti diventano destini infelici ecco un grande dono della genitorialità in generale è quello di non avere progetti sui propri figli molto difficile questo in un tempo come il nostro dove uno si preoccupa per esempio proprio perché non trova il lavoro rispetto a quello che dicevi prima dice voglio fare il pittore voglio fare l'accademia bene qual è la posizione che deve assumere un genitore considerando che diciamo non è proprio una professione che verrà gratificata dal punto di vista sociale ed economico però questo è un punto essenziale il dono che noi possiamo fare i nostri figli il dono più grande dopo esserci occupati della sua cura perché non dimentichiamo che la vita umana in generale non è mai vita autonoma autosufficiente si vede nella inermità di un neonato cioè un neonato senza la presenza dei genitori l'accudimento la cura il calore l'amore dei genitori morirebbe come un geranio senza senza acqua al tempo al tempo stesso però c'è un tempo in cui noi dobbiamo come dire sospendere le attese sui nostri figli questo è un dono questo è veramente perché la sospensione dell'attesa cioè l'assenza di progetti consente al figlio di trovare il proprio desiderio che allora non è fotocopia come diceva l'ascoltatrice del desiderio dei genitori si chiama Paola ecco come diceva Paola ma è un suo desiderio per cui la fotocopia la clonazione la riproduzione investire sul figlio guarda ti racconto un piccolissimo aneddoto che mi viene alla mente ora il mio primo paziente primissimo 30 anni fa era un giovane giovanissimo tennista di grandi qualità diciamo che aveva sviluppato uno strano crampo al braccio destro che gli impediva di giocare fondamentalmente nell'analisi di questo ragazzino quello che emerge è che il padre che aveva questo grande desiderio di diventare tennista la sua carriera è stata brutalmente interrotta da un incidente traumatico e da quando è nato il suo primogenito maschio ha investito la frustrazione per una carriera interrotta sulle spalle di questo ragazzino che dunque per obiettare al padre amato amatissimo ha dovuto inventare una sorta di sintomo isterico per poter dire di no al desiderio del padre e affermare il suo proprio desiderio ricorda molto la storia di Agassi grande tennista che racconta in uno stradionario libro dal titolo Open dove proprio il problema è diversificare il desiderio del figlio dalle attese che caratterizzano il desiderio dei genitori e se i genitori non se ne accorgono nel senso credo che questo padre in qualche modo ne fosse consapevole però magari agisce a livelli anche più sottili rispetto al tennista nell'educazione questo è un tema che non abbiamo ancora introdotto e vale la pena di farlo la nascita di un figlio implica sempre quello che Freud descriveva come il narcisismo rinato dei genitori nasce il figlio e rinasce il narcisismo dei genitori che cosa vuol dire che rinasce il narcisismo dei genitori che i genitori proiettano sui figli diciamo così la realizzazione del loro essere del loro desiderio soprattutto quando i figli e questo è un grande tema che spero avremo modo di affrontare quando i figli esauriscono l'orizzonte del mondo non c'è niente di peggio che un figlio che sia tutto per la propria madre o per il proprio padre come era in questo caso se un figlio diventa tutto per i genitori beh si crea una prigione come dire a doppio scatto no? cioè se il figlio è tutto per i genitori il figlio non può abbandonare i genitori ma il fatto di essere tutto per i genitori lo lega ancora di più ai genitori una domanda sulle regole i genitori oggi spianano la strada di Stefano i genitori oggi spianano la strada ai figli che non sono più abituati ad affrontare le difficoltà ecco il perché della richiesta dei bonus per psicologi tempo fa si prendevano quattro sberle si arrangiavano qui ci sono tanti temi in questa domanda eh sì diciamo non condividerei l'epilogo di questo di questo aneddoto perché allora io non sono un nostalgico di come era una volta l'educazione non dobbiamo avere nostalgia di come era impostata l'educazione un tempo diciamo pre 68 no? lo schiaffo non è mai uno strumento educativo ora è vero che noi siamo in un tempo di smarrimento di crisi del discorso educativo è vero che dobbiamo ricostituire questo discorso ma non dobbiamo guardare indietro cioè quello non è un modello ideale diciamo del discorso educativo il rispetto delle regole non passa da quattro schiaffi passa dalla trasmissione del senso della legge io insisto su questo punto allora la domanda potrebbe essere ma che cos'è ma come avviene la trasmissione del senso della legge faccio un esempio per essere molto chiaro io sono cresciuto in una famiglia cattolica di fondo e antifascista ma l'antifascismo per esempio non era come dire un discorso non era una attività persuasiva era un modo di essere l'esempio è l'esempio che serve ai figli sì ecco tu introduci un punto su cui ho scritto moltissimo io dico che non è l'esempio perché l'esempio porta con sé sempre qualcosa di esemplare come dire guarda me io sono il modello ideale di cosa tu dovresti essere l'esempio è una tortura perché implica l'esemplarità del modello che istituisce l'esempio io preferisco parlare di testimonianza non ci sono testimoni di professione e la testimonianza è silenziosa ti facevo l'esempio dell'antifascismo dove non c'è mai stato un discorso diciamo organizzato però il clima che si respirava l'idea che la democrazia fosse diciamo così la condizione di vita collettiva la più adeguata all'essere umano e che l'autoritarismo la censura il culto dell'obbedienza del sacrificio la violenza del potere fossero qualcosa antagoniste alla democrazia non sono stati discorsi è stata una pratica esistenziale non so come dirti è stata una testimonianza quotidiana però se tu dici esempio le mie orecchie si drizzano nel senso che testimonianza testimonianza ecco brava perché se i genitori vogliono essere esemplari è un incubo per i figli cioè il genitore che si pone come modello ideale è un incubo per i nostri figli e poi parleremo della difficoltà in una puntata di muoversi di questi genitori che magari vogliono fare testimonianza ma sfociano hanno una deriva ne parleremo più avanti sai anche perché la testimonianza adesso dico una cosa un po' complessa ma cerco di dirla nel modo più semplice possibile la testimonianza di un genitore è ricostruita del figlio dal figlio retroattivamente cioè significa che io posso per esempio oggi rileggere rileggere l'assenza di mio padre di quando io ero bambino come l'effetto della sua dedizione al lavoro e della sua cura per la famiglia cioè come una testimonianza ma lo posso rileggere oggi da bambino vivevo semplicemente quell'assenza come una mancanza non so se mi spiego cioè la testimonianza è sempre retroattiva cioè è ricostruita retroattivamente perché altrimenti sarebbe l'esito di un atto esemplare come dire ecco adesso io ti testimonio cosa vuol dire essere un buon genitore no la testimonianza è raccolta dal figlio in un tempo sfasato ecco perché Verdone quando rimprovera i suoi figli resta deluso dal fatto che nessuno lo attende no nessuno si accorge del fatto che quest'uomo lavora che torna a casa affaticato mentre i figli sono come direbbe Michele Serra sdraiati sui loro sui loro divani ma ci vuole tempo per costruire la testimonianza ne parleremo da martedì prossimo con Massimo Ricalcati grazie da martedì ripartiamo con la testimonianza retroattiva grazie a tutta la squadra Mimmi Micocci Reggie redazione Stefania Bova e Laura Nerozzi Graziana Avella la parte tecnica questa mattina Maximilian Gambino adesso c'è lo speciale del GR1 il giorno della fiducia con Carlo Albertazzi e Paulina Mene il buon ascolto Radio 1 il mondo nuovo a presto Ciao a tutti i nostri sposti amici i nostri sposti ciao a tutti i nostri sposti Grazie.